Sono nato e cresciuto a Brooklyn. Mio padre ha fatto il sorvegliante per oltre 32 anni. Non ne ha ricavato niente. Ho cominciato da zero affinando le mie capacità naturali, sperando di fare un giorno abbastanza soldi per prendermi cura del mio vecchio. Mi serviva solo un'occasione. Ti farò diventare ricco. Cosa? Andrei a lavorare per il mio concorrente. Questo è spionaggio industriale? Questa è l'opportunità che stavi aspettando. Perché tu vuoi sapere come vivono i ricchi? Buongiorno, noi ti stiamo reinventando. Se vuoi essere accettato devi adeguare l'immagine. Devi adattarti per inserirti. Benvenuto a Lycon. Grazie. Jack Goddard. Io voglio il massimo. Chiedo troppo. Siamo alla vigilia di una rivoluzione. Ed è una cosa che non sarei mai in grado di copiare. Quello che voleva. Mi dia i miei soldi. Ho chiuso. Tu hai chiuso, figliolo. Solo quando lo dico io. Sei di mia proprietà. Abbiamo registrato tutto. Tutte le conversazioni fra te e Wyatt. Sistemerò tutto. Userò quello che mi hanno insegnato per distruggere ciò che hanno costruito. Il ragazzino sa troppo. Il ragazzino sa troppo.